Andiamo adesso all'altra grande raccolta di Eugenio Montale, ossia La bufera, pubblicata nel 1956. La raccolta contiene tuttavia dei componimenti scritti in particolare negli anni della Seconda Guerra Mondiale, a cui appunto il titolo La bufera allude, e poi all'immediato dopo guerra. Dal punto di vista stilistico, diciamo che La bufera è abbastanza simile alle occasioni, ma il pessimismo dell'autore si fa in questo caso, potremmo dire così, ancora più accentuato. La figura della donna salvifica è ancora presente, ma Clizia viene qui rappresentata. Leggeremo una poesia in particolare come fragile, come devastata dall'orrore della storia e come bisognosa di protezione. Alla figura sublimata della donna Angelo si affianca una nuova protagonista femminile, Volpe, sempre segnal che allude a un altro degli amori di Montale, che ha delle caratteristiche molto diverse, è destinataria di un amore che potremmo appunto definire più sensuale. I tre protagonisti della raccolta sono appunto, come vi dicevo, la storia, la Seconda Guerra Mondiale, le lacerazioni dell'immediato dopo guerra, Clizia e Volpe. Il contesto rappresentato, ve lo dicevo, della Seconda Guerra Mondiale e dell'immediato dopo guerra, a volte tendo ad andare, insomma, ad anticipare contenuti del PowerPoint, e soprattutto il secondo dopo guerra, lo vedremo in un testo bellissimo, che è Piccolo Testamento, provoca nel poeta un profondo senso di sconforto. Si assiste al trionfo ormai definitivo della società massificata, di quella società appunto massificata che abbiamo visto tratteggiata anche in quelle città, di cui si parlava appunto nei Limoni, nella poesia dei Limoni, e poi dall'imporsi di due grandi partiti, il Chiarico Rosso e Nero, di cui si parla appunto in Piccolo Testamento. Una parte la democrazia cristiana, il Chiarico Nero, e dell'altro il Partito Comunista. Luce, dirà il poeta di chiesa o d'officina, il tentativo del poeta è di tenersi lontano da questi schieramenti di parte, dalle estremizzazioni di una parte e l'altra, e di tenere a ciò su un piccolo nomicino, che possa appunto in qualche modo rappresentare un conforto nel buio rappresentato appunto dal secondo conflitto mondiale. Eclizia, vi dicevo, è sempre più fragile. Quegli occhi di ghiaccio che il poeta in nuove stanze opponeva allo specchio storio del conflitto, della tragedia, della guerra appunto, adesso non sono più in grado di in qualche modo proteggere il poeta, ma è lei ad essere bisognosa di protezione e di tenerezza. E Eclizia è dedicata a questa poesia bellissima, una poesia di grande e proprio delicatezza, in cui dice il poeta, parlando appunto di Eclizia, ti libero la fronte dai ghiaccioli che raccogliesti traversando le alte nebulose, hai le penne lacerate ai cicloni, ti desti a soprassalti. Vi anticipavo, non già questa immagine, della donna che attraversa i cicloni, le alte nebulose, un cielo in tempesta e che giunge con le penne lacerate quando il poeta Indora Marcus aveva paragonato quell'altra donna, agli uccelli migratori che attraversano il cielo tempestoso e che vanno a sbattere contro i fari. Qui Eclizia non va a sbattere contro il faro, ma da questa tempesta che è costretta a attraversare, che è fuori di metafora ovviamente, la tempesta della discriminazione razziale, del secondo conflitto mondiale, esce con le penne lacerate. E la seconda parte del componimento dice Mezzodì Allunga nel riquadro il nespolo l'ombra nera, sostiene in cielo un sole freddoloso, e le altre ombre che scantonano nel vicolo non sanno che se è qui. Io la trovo una poesia bellissima, poi il Baldi figuramente vi darà gli elementi per un'analisi tecnica del testo. Però a me piace moltissimo l'immagine di questa donna che attraversa la tempesta, la tempesta dell'esistenza, che trova rifugio presso il poeta, che si riposa ma che si desta sopra assalti, e non riesce ad avere un sonno ristoratore perché c'è ancora una minaccia incombente su di lei, queste altre ombre che scantonano nel vicolo, ma che non sanno che lei è lì, nella casa del poeta, che cerca appunto di proteggerla. Quindi una glizia molto diversa da quella donna sicura che abbiamo visto giocare a scacchi e con gli occhi di ghiaccio essere consapevole di ciò che accade là fuori, una donna invece fragile che ha bisogno di essere protetta. Credo che sia uno dei testi più belli della poesia contemporanea, uno in assoluto dei più belli di Eugenio Montale, pure appunto nella sua brevità, perché si sente proprio l'affetto, la profondità dell'affetto del poeta nei confronti della donna amata. Montale è un poeta difficile, è un poeta oscuro, ma non è un poeta che scrive testi intellettualistici, se mi consentite un po' il giudizio personale. Cioè in questi testi, che pure sono in difficile comprensione, non si coglie solo l'esercizio retorico, l'esibizione della parola ricercata, della parola effetto, ma si sente proprio un'umanità autentica, palpitante, come nel caso di questa poesia, ed è poi quello che lo rende uno dei poeti più significativi della nostra letteratura. Forse è un poeta che è la prima volta, cioè al primo approccio, può scoraggiare, perché è molto. Cioè c'è tutto un pensiero filosofico dietro la sua produzione, che se ci fate caso si evolve da raccolta a raccolta, le raccolte presentano ciascuna delle peculiarità, sono molto diverse tra loro, i testi significativi che vanno nella pena di leggere, che quindi i docenti magari propongono, sono diversi, sono tanti, quindi un po' può scoraggiare, però secondo me è un autore che poi riletto con calma si può apprezzare moltissimo. Sono certe che almeno un'altra poesia che leggeremo vi colpirà, non un piccolo testamento magari che leggeremo adesso, ma un'ultima poesia, forse l'avete già sentita, ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale, ma fa parte di un'altra raccolta. Quindi in questo momento torniamo un attimo sulla bufera, su questa raccolta, tra i testi significativi attanto a quello che abbiamo appena visto, c'è il piccolo testamento. È una sorta di bilancio provvisorio che fa il poeta della sua esistenza. E anche qui è presente il tema della storia, non il secondo conflitto mondiale, ma come vi dicevo, il secondo dopoguerra. Questo, che a notte baluggina, nella calotta del mio pensiero, traccia madroperlace, di lumaco, smeriglio di vetro calpestato, non è il lume di chiesa d'officina, che è l'empenti, chiarico, rosso o nero. Solo quest'iride posso lasciarti a testimonianza di una fede che fu combattuta, di una speranza che bruciò più lenta di un duro ceppo nel focolare. Conserva nella cipra e nello specchietto, quando spento ogni lampada, la sardana si farà infernale, e un ombroso lucifero scenderà su una prora dal tamigi dell'Azon della Senna, scuotendo l'ali bitume se mi mozzo e la fatica a dirti è l'ora. Non è un'eredità, un portafortuna che può reggere all'urto i monzoni, sul filo di ragno della memoria, ma una storia non dura che me la cenere, persistenza è solo l'estinzione, giusto era il segno, chi l'ha ravvisato non può fallire nel ritrovarti, ognuno riconosce i suoi, l'orgoglio non era fuga, l'umiltà non era vile, il tenue bagliore estrofinato laggiù non era quello di un fiammifero. È un testo indubbiamente complesso, anche qui vi rimando all'analisi approfondita sul baldi, io mi rendo conto che sto parlando su un montale moltissimo, molto di più di quanto non ho fatto per altri autori, quindi magari non farò l'analisi dettagliata di questo testo, ma su alcuni passaggi sento il dovermi soffermare per forza. È un testo tuttavia che dovete analizzare con attenzione perché anche questo è un testo che sicuramente troverete nell'elenco dei testi da proporre all'esame di scato, nel senso tutti i testi che faremo saranno presenti nell'elenco, però questo sicuramente a qualcuno lo chiederò anche perché così come quell'altro che vi ho segnalato, perché si presta moltissimo a collegamenti con la storia anche per esempio con il neorealismo in che senso. Intanto il contesto al quale si allude e al quale si fa riferimento è quello dell'immediato secondo dopo guerra. Il secondo dopo guerra non è facile in Italia perché la seconda guerra mondiale per gli italiani non è soltanto una guerra verso, contro potenza esterniera ma a un certo punto diventa anche guerra civile che contrappone due parti politiche che contrappone fascisti e antifascisti e ci sono a questo proposito dei romanzi bellissimi purtroppo non abbiamo il tempo di leggere con calma le varie opere insomma del neorealismo italiano che fanno capire quanto sia stata dolorosa per gli italiani l'esperienza della seconda guerra mondiale e del dopo guerra in particolare me ne vengono in mente due che sono anche dei romanzi molto gradevoli da leggere sono molto bravi sono anche molto adatti ragazzi insomma della vostra età cioè l'agnese va a morire di Viganò ci sono delle pagine in cui il insomma Viganò riesce a far comprendere molto bene come vicini di casa parenti che avevano vissuto praticamente tutte le loro vite insieme persone che erano cresciute insieme a un certo punto si trovano a combattere due guerre diverse si trovano su due fronti contrapposti fascisti e antifascisti un po' costretti dalla grande storia a farsi la spia a vicenda a detestarsi ecco a vicenda e quindi il dramma proprio di una guerra che come vi dicevo per gli italiani diventa anche guerra civile che contrappone gli uomini e i propri fratelli e i propri amici e i propri conoscenti e poi un altro romanzo anche questo molto bello è la ragazza di Bube di Cazzola questa storia che è anche una storia d'amore di due giovani proprio nel secondo dopoguerra racconta appunto la storia di questo giovane Bube che dopo la fine della guerra non capisce subito che l'esperienza e la lotta partigiana è finita e che certi mezzi anche un po' sbrigativi che in guerra erano appunto consentiti non sono più ammessi cioè l'odio che inevitabilmente fascisti antifascisti avevano in qualche modo nutrito reciprocamente non riesce a distinguersi subito dopo la seconda guerra mondiale e quindi c'è qualcuno che continua una sua guerra personale che non riesce a fare immediatamente insomma pace con se stesso e con e con gli altri tra questi appunto Bube che poi paga un prezzo altissimo per questo suo non aver compreso che non è più quello il tempo e anche mi viene in mente quel testo bellissimo di Ungaretti che abbiamo letto cessate cessate uccidere morti no cioè che è un invito a non continuare ad alimentare questa questa contrapposizione di parti dopo la fine del secondo del secondo conflitto mondiale qui in piccolo testamento Montale sta dicendo questo il mondo continua è finita la seconda guerra mondiale ma il mondo continua a essere diviso tra chiarici rossi e neri e in questo caso il riferimento è alla divisione dell'Italia tra i sostenitori di due grandi partiti il partito comunista e la democrazia cristiana una contrapposizione però che si inserisce in una contrapposizione più ampia appunto in respira internazionale che è quella appunto della guerra fredda che inizia subito dopo praticamente la seconda guerra mondiale e sono gli Stati Uniti da una parte e l'unione sovietica dall'altra ad alimentare anche la contrapposizione interna tra democrazia cristiana e partito comunista c'è l'immagine di questo lucifero che scende appunto con ali di bitume semimozze dalla fatica questa questa proprio percezione di catastrofe imminente che dice appunto è l'ora è un'allusione chiara all'imminenza della guerra della guerra fredda dice quando la sardana si farà infernale la danza appunto demoniaca si farà infernale ancora più infernale della bufera della seconda guerra mondiale sarà appunto la guerra fredda e in questo contesto di odi di contrapposizioni qual è la posizione del poeta il poeta ribadisce quel non poter dire parole definitive vi ricordate il testo che abbiamo letto da ossì seppia non chiederci parole che squadri l'orizzonte in maniera netta no parafraso non ricordo benissimo insomma le parole cioè il poeta non ha una verità da dare in un mondo in cui tutti sono convinti di possedere la verità di essere dalla parte dei giusti il poeta che cosa lascia nel suo testamento una traccia madre per l'acea di lumaca o un pezzettino uno smeriglio di vetro calpestato lascia pochissimo lascia appunto appena una traccia una traccia invisibile come quella della lumaca che insomma immagino abbiate visto nei muri per esempio delle case di campagna solo questo può lasciare a testimonianza non i toni forti di chi appunto è convinto di essere dalla parte giusta di una fede che fu combattuta di una speranza che bruciò più lenta di un duro ceppo nel focolare il poeta rivendica l'essere rimasto sempre lucido negli anni del fascismo durante la guerra adesso negli anni della guerra fredda di aver sempre mantenuto acceso il proprio lumicino che è quello della lucidità intellettuale del raziocinio di fronte alla barbarie della guerra che sia appunto la seconda guerra mondiale o la guerra fredda ed è questa la sua lezione restare sempre lucidi non lasciarsi travolgere dalla barbarie della storia conserva di questa sua fede che bruciò di questa speranza che bruciò più lenta di un di un duro ceppo nel focolare conserva nella cipria nello specchietto quindi conserva quel poco che resta perché ti possa servire appunto di ti possa servire insomma in qualche modo come traccia giusto era il segno giusto era il segno di chi ha capito la barbarie che si stava consumando nel mondo questa aridità questo vuoto dell'esistenza chi l'ha ravvisato non può fallire nel ritrovarsi l'orgoglio non era fuga l'umiltà non era vile cioè sta dicendo anche montale se vogliamo un po' risponde a quell'accusa che è rivolta agli ermedici ma è un po' rivolta anche a tutti gli intellettuali che non presero una posizione forte rispetto al fascismo è vero che montale firmò il manifesto degli antifascisti a differenza di altri per esempio a differenza di ungaretti ma non fu un militante diciamo così dell'antifascismo e qui un po' si sta anche difendendo dice non era fuga l'umiltà non era vile è l'intellettuale che sa di non poter far poi molto contro l'orrore della storia lo abbiamo letto anche in nuove stanze se vi ricordate non dice i tuoi occhi glizza non bastano sostanzialmente per fermare la guerra che si consumano fuori però i tuoi occhi la cultura l'intellettuale può comunque quantomeno non immischiarsi nell'orrore nella barbarie non lasciarsi travolgere dall'odio di parte ed è questa sostanzialmente la lezione che Montale trasmette in piccolo testamento piccolo testamento non chiude diciamo così di non chiude la produzione del poeta qui sì scusate a questo link sì a questo link vi dicevo potete trovare ecco una bella video lezione completa un commento diciamo così sulla poesia piccolo testamento quindi magari anche sugli aspetti proprio tecnici su cui non mi sono soffermata insomma sono proprio oggetto di attenzione in questa video lezione invece per quanto riguarda l'ultima delle raccolte che studieremo satura dedicherò una video lezione a parte quindi questo credo sia il caso di concluderla qui di